Il brillante, qui però sbaglia completamente il tocco, regala il pallone a Nengolan, ma è in percussione a Nengolan, dentro per Cervigno, in area, Cervigno, dentro, Nengolan, Rete, Nengolan, Roma in vantaggio. Ha dato inizio all'azione e l'ha andata a concludere Nengolan, recuperando una palla su un passaggio sbagliato di brillante, in velocità, subito. Ecco Taddei che esulta in curva a sud. E in profondità, Cervigno è stato bravo a non controllare la palla, calciare di sinistro.